Oltre 50 fanesi hanno partecipato ieri all'udenza generale del mercoledì di Papa Francesco. Due gruppi che si sono incontrati direttamente a Roma per ascoltare le parole di Bergoglio e vivere una giornata intensa, insolitamente calda e soleggiata. Da una parte il gruppo di preghiera organizzato dal biblista Stefano Iacucci, dall'altra i piloti del nucleo aereo di protezione civile dell'aeroclub Fano, Cavalier Davide Picchi in testa, che hanno donato a Papa Francesco un quadro con tutte le foto delle attività svolte a favore dei disabili e della comunità. E tra i pensieri preparati dall'aeroclub per Bergoglio c'era anche una patch ufficiale dedicata a Papa Francesco, con tanto di aquila aeronautica e il nome del Papa ricamato con filo dorato su sfondo rigorosamente bianco. Ieri la sala Nervi era completamente esaurita e se non fosse stato per l'organizzazione della Segreteria Pontificia alcuni pellegrini sarebbero rimasti fuori, tanto che la Santa Sede ha deciso di ricevere una parte dei fedeli direttamente a San Pietro, per poi far arrivare il Pontefice nell'aula delle udienze, accolto da un grandissimo entusiasmo. Durante l'udienza Papa Bergoglio ha sottolineato più volte l'importanza dell'amore verso la Chiesa, evitando soprattutto la continua calunnia e la critica distruttiva, mentre questa mattina ha avviato il primo grande vertice di lotta alla pedofilia nella Chiesa, un appuntamento delicatissimo che lo stesso Francesco ha definito un'opportunità per trasformare il male in opportunità di purificazione. Dopo l'udienza generale e la consegna dei doni al Pontefice, i piloti dell'aerocler Fano, insieme al parroco di Candelara Don Giampiero Cernuschi, sono stati ricevuti anche dal comandante del Corpo Gendarmeria dello Stato Vaticano, Generale Domenico Gianni, che coordina anche i servizi di protezione civile per il Vaticano e che ha ringraziato il nucleario fanese per il lavoro che svolge a favore della comunità. Un incontro non casuale, considerando che entro la fine dell'anno Papa Francesco dovrebbe tornare nelle Marche e le professionalità dei piloti fanesi saranno a servizio dell'organizzazione pontificia.